Quale è? Siete pronti? Sì Francesca Ambrosini in categoria RX Fatto allo star Sì In cina da 15 Due e mezzo Due e mezzo Poi qua abbiamo i cinque E dentro Scusami E dentro i dieci ovviamente Dieci Solo Tutti Cosina Battle 시는 Fatto keyword Cosa Si Cosa Che sul Qua Vai, brava, si vuota, non che fuori. Due, tre, quattro 5 6 7 8 9 10 10 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 let's go 2 more 1 1 4 4 5 6 6 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 Perfetto! 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 2, 1, apriti qui bianca, apriti qui bianca! Perfetto! Parfetto! Perfetto! Ultimo, ultimo, buco l'arretto. Anche barbi. Che ieri, bravo. La chiamare il bellino per la torta. Che vedo l'altro, la chiamare la corda. Che vedo l'altro in questo caso. Che ne puoi andare in pieno? Che appena? Vabbè Cresca Coppia bassi, bassa Vai ultimo, ultimo, ultimo non volare apri la pianta, yes ultimo, 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 ultimo bravo bravo uno due tre quattro, latinico storipmo cinque tre 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 5 6 6 6 7